Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Dark Knight e siamo nel numero 5 di Sword Art Online Fractured Daydream e signori andiamo avanti con la storia e torniamo al gruppo di Kirito, Quinela e Lifa che stanno vagando insieme a Fuka e Neige, quelle che appunto devono sistemare Galaxia e nel mentre che vagano, nel mentre che vanno avanti in questa pianura di Alfame Online trovano un Klein dentro una gabbia, eccolo qua e ovviamente sono tutti con la faccia molto delusa perché vabbè in tante cose poteva capitare Klein e a quanto pare non sono per niente stupiti del fatto che sia finito in una trappola, c'è Klein che è lì che dice per favore liberatemi e loro dicono ma com'è possibile che questo ogni volta ne combina una ed è praticamente quindi dentro sta gabbia che sta lì e chiede chiede perdono sia per la sua stupidità e sia per essere salvato poverino e sono lì che riflettono intanto devono capire se si può rompere la gabbia perché è lì sì però sapete com'è ci sono sempre anche gli oggetti immortali quindi magari non si può rompere ci deve essere un meccanismo invece Fuka è lì che dice no sembra che si può rompere quindi c'è uno può andare lì fisicamente tiragli una spadata e spezzarla però di colpo riflettono e dicono però mi sembra un po' strano cioè ok è intrappolato dentro una gabbia ma possibile che si può rompere così molto semplicemente cioè che senso ha intrappolare una persona dentro una gabbia se poi può arrivare uno qualunque prendere e tiragli una spadata e romperla e dice forse forse l'intento è un altro non è proprio fare in modo che la persona non esca più da lì ma semplicemente come dice anche qui nella unesca ovvero catturi uno aspetti che qualcuno venga lì per rompere la gabbia e gli fai un bell'assalto una bella imboscata e quindi mentre sono lì che stanno pensando questa cosa effettivamente poi arrivano tanti di quei nemici addosso perché cercano appunto di papparseli tanti bei mostri non sono più solo lupi grazie a dio come abbiamo visto negli scorsi episodi in ganghielo online però vi arriva un po' di tutto un bel po' di mostri perché appunto questo era l'obiettivo non bloccare Klein là dentro per sempre ma attirare dei suoi potenziali amici che per salvarlo appunto devono fare anche loro una brutta fine e quindi bisogna essenzialmente difendere la gabbia e salvare poi anche Klein ci riescono chiaramente quindi tutto a posto senza pensieri anche se vi assicuro che la missione non è proprio semplicissima soprattutto per fare il rango s non è proprio facile facile mi sembra che incida anche un pochino il danno che i mostri fanno sulla gabbia quindi se i mostri fanno del danno a Klein o comunque alla gabbia vi abbassa forse leggermente lo score poi ci sono anche diverse dinamiche dei mostri quanti ne uccidi cioè fare esse diciamo in queste missioni dove non ci sono degli eventi secondari ma solo uno principale a volte può risultare molto complicato comunque tornando ovviamente qui alla storia c'è Klein che la prima cosa che fa quando esce dalla gabbia è subito si mette a parlare con Quinela non lo sa però quanto è cattivo ok non lo sa che può arrivare lì e Tang stroncarlo come niente però lui ci prova cioè è troppo troppo forte più forte di lui un po come Sanji in One Piece però lui è un po quello sfigatello non è tanto la Sanji e ogni volta ci prova e finisce male la cosa però un pochino più particolare no di Quinela è che lei sta al gioco lei non è la tipa che subito rigetta le persone lei è intelligente furba diceva guarda questo come devoto ai miei occhi forse posso utilizzarlo come schiavetto personale e quindi è lì che cerca di radunare seguaci ecco poi di fatto un po quello che ha fatto nell'underworld cioè si è creata la sua città e ovviamente ha fatto questo culto della chiesa di Axiom e con tutti i suoi seguaci ha creato quindi il regno degli umani quindi di fatto lei in cerca di seguaci quindi perché no avere una persona subito facilmente controllabile come Klein quindi fin da subito eccolo qui abbiamo trovato il nuovo seguace il nuovo schiavetto da utilizzare per i miei scopi e quindi con anche Klein in squadra si va e proseguono nel loro cammino verso la console per sistemare Galaxia andiamo però adesso a parlare di Klein ovviamente del suo gameplay la prima cosa che dovete pensare quando giocate con Klein innanzitutto che lui è tra i combattenti quindi rientriamo nella stessa categoria che abbiamo già visto con Lisbeth però in questo caso lui ha la katana ok quindi niente martello ok lui fa male perché il combattente però picchia con la katana come skill ha le solite tre classiche skill però ha tre sword skill quindi essenzialmente sembra un po di ritornare nei vecchi videogiochi se non sbaglio ha Zeku, Zangetsu e Gengetsu che sono tre classiche skill che per chi ha giocato o lo Realization o lo Fragment o comunque gli altri videogiochi di Sao con la katana ormai dovrebbe conoscere la memoria la differenza però è che sono ovviamente modificate per uno stile diverso di gioco innanzitutto parliamo di Zeku che tra l'altro è la mossa più forte di Klein in assoluto io quando l'ho lanciata ho detto eh la lancio vabbè che sarà mai poi Zeku dai vecchi hollow era semplicemente una mossa rapida e veloce per colmare anche la distanza tra voi e il nemico usata tra l'altro anche da qui nella stessa nell'anime quando appunto doveva colpire Kirito in maniera veloce secca e subito si portava alle sue spalle Klein incredibilmente questa mossa l'ha trasformata in portento in distruzione di massa carica il colpo prende colpisce e fa un danno assurdo la prima volta che l'ho tirata tipo ho letto 90.000 è rimasto tipo eh 90.000 come fa a fare 90.000 con una skill eppure Klein fa danni incredibili chiaramente adesso è tutto un pochino più relativo perché rispetto ai primi video io ho comunque un equipaggiamento più forte quindi andare ad affrontare dei nemici è totalmente diverso però vi assicuro che Zeku è molto molto forte tra l'altro è una skill che si può caricare quindi voi la caricate lui si mette in posa la carica in genere sono due tic la prima volta fa una specie di lucetta e poi la seconda una luce più intensa per dire che carica al massimo e colpisce l'unico difetto di questa skill è che a volte può mancare può mancare perché magari il nemico si sposta mentre voi state lì a caricarla e niente va a vuoto molto semplicemente però vi assicuro che ne vale davvero la pena per i danni che fa infatti a volte conviene anche farsi colpire piuttosto cioè vi fate colpire mentre siete lì a caricarla ma la caricate fino in fondo e tirate una stecca pazzesca poi abbiamo la skill sul triangolo che se non sbagliate è Zangetsu e Zangetsu fa abbastanza schifo nel senso che ha due colpi quindi due colpi semplicemente di katana e non fa grandi danni però ha il vantaggio di almeno cappottare i nemici cioè i nemici vengono sbalzati da questa skill questa è buona perché magari può gestire un attimino i mostri se vi stanno un attimo assalendo perché li cappottate e dopo pensate a come fare per finirli quindi per farli fuori e poi abbiamo Gengetsu sul cerchio che semplicemente lui da prima un colpo di katana ravvicinato e poi crea dei piccoli fendenti nell'aria a una piccola distanza tra di lui è un diciamo un range finto ecco cioè fate questa skill un pochino a distanza ma neanche tanto infatti a volte il problema di questa skill è riuscire a trovare la distanza corretta della mossa il vantaggio però della mossa è che avendo questa skill anche un po' in aria diciamo un pochino più in alto rispetto a dove colpite magari riuscite a prendere meglio il punto debole ecco però come danni non è niente di che quindi essenzialmente klein va molto sull'attacco quello base cioè colpire fisicamente col quadrato e poi la skill zeku parliamo poi invece della sua abilità speciale ovvero l'l1 perché per molti può sembrare essenzialmente complicato l'l1 cosa fa vi definisce quattro stili di gioco klein praticamente con l1 e poi a x quadrato triangolo cerchio definisce un suo stile questo stile gli dà dei buff e dei debuff quindi in base a quale di questi stili scegliete lui si adegua e ottiene dei potenziamenti oppure dei decrementi in questo caso vi elenco un attimo quali sono questi quattro stili e li analizziamo un attimo sul quadrato semplicemente alla velocità di movimento quindi l'attivate lui corre quindi comoda perché semplicemente lui è più veloce che già di per sé non è lentissimo con quello più o meno si rende veloce e va abbastanza bene ecco poi ha sul triangolo una rigenerazione della cura però questa rigenerazione della cura vi porta anche un abbassamento dell'attacco almeno non è scritto proprio così nella descrizione del personaggio però dalle icone che vedete in basso faccio vedere proprio i buff e debuff che vengono assegnati a lui vedete che c'è appunto il simbolino rosso sulla spada per dire abbassamento dell'attacco però allo stesso tempo avete questa rigenerazione della cura ok poi abbiamo quello col cerchio che aumenta l'attacco ma vi abbassa le difese quindi avete il simbolino della spada e poi lo scudo rosso per dire che vi siete abbassati le difese e infine con lo stile con la x ha invece il contrario quindi che vi aumenta la difesa vi abbassa l'attacco di tutti questi stili ok che uno può uscire pazzo tra l'altro potete cambiarle anche durante il combattimento quindi potete anche nel mezzo del combattimento cambiare stile decidere di usarne uno diverso essenzialmente quello più importante è quello che vi aumenta l'attacco ed è un pochino anche quello che ho detto per l'isbet che senso avere tutti questi buff buff random oppure cose che potete scegliere mille cose cioè il combattente una cosa deve fare deve fare male quindi per lo più vi troverete a usare il buff quello che vi aumenta l'attacco e anche se subite più danni non fa niente e menare forte con Klein perché questo è l'obiettivo degli attaccanti quindi obiettivamente tutti questi stili non è che servano poi a granché cioè mettete semplicemente quello dell'attacco fisso più attacco possibile e basta e avete il problema risolto ogni tanto secondo me l'unica variante che potete fare è dargli il buff della velocità quindi con l'l1 quadrato e correre un pochino più veloce allora in quel caso magari mettiamo che ne so una missione coppa voi correte più veloce col quadrato poi quando arrivate nella stanza dei nemici vi mettete ovviamente la il buff dell'attacco quindi potete fare su giusto questa variazione infine la skill definitiva sanca che è ben lontana dal sanca che conosco io di all realization o anche di all of fragment però semplicemente lui tira dei fendenti e genera anche una specie di fiore no quindi un cherry blossom no alla giapponese style perché poi in fondo la katana no ricorda anche un po lo stile giapponese del combattimento devo dire che fa molti danni fa molti danni come mossa finale l'unica forza e pecca è non essere poi tantissimo e quindi se vi trovate con tanti mostri di fronte fate un pochino fatica ecco però devo dire la verità fa molto male e su questo non c'è niente da dire per quanto riguarda la copp klein nonostante i suoi grandi danni ok perché è un combattente come abbiamo detto prima comunque fa tanto male e la copp se la tanti danni ma di fatto non ha una vera propria skill a oe per gestire tanti nemici quindi magari vi trovate che un nemico lo fate subito fuori gli lanciate uno zecco e lo esplodete però poi ve ne trovate altri 4 o 5 che fate fatica a gestire spesso mi sono trovato con la skill del triangolo zangetsu comodo per riuscire ad atterrarli e poi gestirli dopo però è semplicemente un po sticipare il problema se avete tanti nemici addosso vi trovate che klein inizia a essere un pochino sofferente poi soprattutto se avete lo stile dell'attacco aumentato ma la difesa abbassata vi possono anche fare quel pochino più di danno che vi dà un po fastidio quindi nella copp diciamo che klein non si gestisce proprio benissimo nonostante sia un combattente fa danno però vi sentite un pochino soppressi da a volte dei mostri quando avete troppi mob attorno e questo è un pochino fastidioso invece nel raid e dove klein veramente esplode di potenza perché perché i suoi bei danni si fanno sentire e tra l'altro nel raid come al solito del robottone ormai vedremo robottoni per non so quanti episodi però il robottone nonostante tutto nonostante lui non abbia il cecchino come altri non sia un personaggio a distanza comunque fa un sacco di danni vi mettete davanti alla lente con zekui tirata una botta pazzesca e anche la skill finale quindi la mossa finale che fa sanca comunque fa tantissimi danni quindi nonostante tutto lui anche in un boss che obiettivamente non si potrebbe dire che per un personaggio gruppa corpo fa tanti danni si vede proprio che klein è una macchina da raid lui va messo nel raid deve fare un sacco di danni deve sfruttare al massimo il suo effettivamente quello che è meglio adatto per klein quindi per il suo stile per i danni che fa quindi da questo punto di vista klein è molto buono per i raid se volete utilizzarlo vi consiglio di dedicarvi soprattutto quello ho visto anche alcuni video di giapponesi che lo utilizzano e anche loro effettivamente fanno mega danni poi tra l'altro con tutte le armi al centro tutto super livellato però soprattutto lo vedo utilizzare nei raid perché è dove veramente il suo potere d'attacco si può sfruttare al meglio adesso però andiamo a vedere a grande sorpresa anche il gameplay di egil perché dicevo vabbè già che ci siamo diamogli un po di compagnia diamogli anche egil no perché in fondo dobbiamo tirar fuori tutti i ragazzi tutti i personaggi maschili egil comunque lo vedremo nel prossimo episodio quindi non vi preoccupate arriverà molto presto però vi lo anticipo come gameplay egil la differenza di klein è un tank quindi è essenzialmente opposto a quella che è la specialità di klein lui deve prendere botte deve prendere botte e reggerle questa è la sua cosa principale come tutti quanti ha tre skill la prima sul quadrato e will wind che era anche una sword skill dei vecchi ollo che vuol dire turbine un pochino riarrangiata perché qui genera fisicamente un turbine cioè lui fa una specie di 360 e genera un turbine nei vecchi videogiochi era forte perché prendeva 360 attorno a sé qui invece genera un turbine che però non fa poi questi grandi danni dove invece egil riesce a fare un pochino più di danni e sul triangolo perché questo triangolo inizia a fare un po' di mosse un po' di attacchi che fanno anche abbastanza male e devo dire la verità chiunque si trova davanti bene o male lo distrugge quindi dove egil si riesce a difendere un po' meglio con la skill del triangolo e infine poi egil ha una skill col cerchio che è un po' particolare una skill speciale che bene o male hanno tutti i tank questa skill essenzialmente cosa fa attira l'aggro dei nemici quindi nemici cercano di andare poi da lui attira l'attenzione attira quello che è l'hate dei mostri quindi l'odio dei mostri che appunto vanno su di lui però allo stesso tempo riduce i danni che subirebbe quindi è un po' una sorta di provocazione lui fa danno ai nemici li provoca però quando lo attaccano quando lo colpiscono lui subisce meno danno in generale qual è l'obiettivo del tank l'obiettivo del tank rispetto agli altri personaggi è appunto subire colpi ma soprattutto cercare di pararsi con r2 che è una cosa che fino ad ora ne avete visto fare ben poco il personaggio si para para gli attacchi questa cosa generalmente non è poi così tanto vantaggiosa con quasi tutti i personaggi tranne con i tank perché comunque parandosi un po' di danno lo subisci a meno che non fai la parata perfetta perché se fai la parata perfetta al millesimo secondo in cui vieni colpito allora non subisci danno ma eccezione di quel caso lì quindi quando parate ma non siete nella parata perfetta un po' di danno lo subite e il tank ha il vantaggio di subire molti meno danni quando siete in parata e in più ha una vita ben più grande rispetto a un personaggio normale quindi può resistere a molti più attacchi stando anche in parata questo enorme vantaggio del tank che invece vabbè io con gli altri schivo con questo paro dov'è il problema il fatto è che il tank così semplifica tantissimo il gioco non dovete più schivare potete mettere davanti al mostro mettervi con la guardia e stare belli tranquilli cioè lo menate quando sta per attaccare che tra l'altro fa anche l'area per terra fate la parata tutto risolto cioè letteralmente un gameplay semplicissimo da questo punto di vista ed è quello che agevola tantissimo i tank in questo videogioco dove sta poi forse un po' il problema di agil è che la skill dove fa un pochino più di danni che il triangolo ha tanti colpi quindi spesso vi trovate nella condizione di essere lì che dovete far danno col triangolo ma non avete ancora finito la skill per mettervi in parata e quindi vi colpisce il nemico nel mentre state facendo ancora questa skill obiettivamente il tank per avere un gioco pulito fatto bene dovrebbe dare pochi colpi forti quindi una skill anche singola che fa male per essere poi subito pronto a mettersi in parata e quindi reggere un attacco nemico questo dovrebbe essere l'ottimizzazione del tank ed agil un pochino soffre perché la skill che fa più male quella col triangolo è una skill un po' lunga e quindi poi spesso vi trovate un po' contro tempo per mettervi in la sua abilità speciale con l'l1 anche essa è abbastanza particolare lui semplicemente ottiene la super armatura quella che vi permette di resistere agli attacchi anche quando voi siete fermi comunque quando vi colpiscono in generale senza che vi diano contraccolpo quindi questa abilità vi dà una sorta di resistenza si può dire così che quando vi colpiscono non cadete a terra e in più aumenta l'attacco ad agil in più come ulteriore cosa quando voi riprimete l'l1 quindi quando iniziate ad attivarlo che la barra si consuma quando poi voi lo ripetete quindi riattivate l'l1 lui dà un colpo a terra e fa anche bei danni comunque danni discreti per quello che si può considerare un tank questa cosa quindi utilizza perché voi cosa fate lo utilizzate in questo modo lo attivate quindi l'l1 vi aggiungete questo attacco questa super armatura per tutto il tempo della barra possibile e quando arrivate alla fine premete l'l1 e fate anche la mossa per fare danno tra l'altro io all'inizio pensavo che l'l1 era proporzionato a quanta barra avevate come danno in sé invece no l'l1 fa danno a prescindere se avete un pezzettino di barra o se ce l'avete tutta carica quindi vi conviene appunto utilizzarlo al massimo far consumare tutta la barra e poi fare il colpo finale ripremendo di nuovo all'l1 infine egil ha la mossa finale che devo dire si sa difendere cioè fa male è semplicemente violenza dinamica quindi sempre una sword skill dei tempi d'oro di all realization lo fragment anche se violenza dinamica vi assicuro nei veri hollow faceva un danno incredibile questa è semplicemente una buona mossa in questo caso in fracture daydream fa male e ha un pochino di aoe perché fa una sorta di attacco anche attorno a sé una sorta di 360 anche un pochino più ampio quindi un pochino di aoe ce l'ha andando infatti poi a vedere egil nella copp è forse il suo campo di battaglia migliore perché egil nella copp riesce ad essere molto prestante per il fatto secondo me è proprio a primo impatto quello che vi sbalordisce è la vita lui ha molta più vita quindi nel gestire i mostri è tutto più semplice potete parare potete colpire vi fanno un po male ma non è un problema cioè voi potete gestire tranquillamente un sacco di mostri perché per quante botte prendete avete molta più vita rispetto agli altri e spesso nella copp cosa succede che vi trovate anche delle cure vi trovate delle casse che vi droppano le cure però magari quando avete la cura quando la ricevete dalla cassa è troppo tardi perché magari vi hanno fatto troppo male avete subito usato un cristallo oppure vi hanno già ucciso invece con egil riuscite a sfruttare bene questi tempi di cura perché potete prendere un sacco di botte perché avete tanta vita da gestire e poi quando arrivate alla cassa potete curarvi perché vi droppa appunto l'oggetto di cura e avete risolto il problema quindi da questo punto di vista egil nella copp va fortissimo e devo dire la verità poi anche se non fa poi troppo danno comunque riesce a gestirsi bene i mostri perché appunto gli tira le skill lui si fa picchiare non si fa niente quindi devo dire la verità egil nella copp va abbastanza bene come tank vedremo poi in futuro per essere precisi dei tank forse anche più forti di egil quindi non siete neanche troppo entusiasti di egil è un buon tank ma neanche un supereroe e dove si vede soprattutto che lui obiettivamente non è un supereroe è nel raid perché nel raid obiettivamente la vostra presenza che ci sia o meno è essenzialmente uguale non cambia niente potete essere lì con egil potete non esserci essenzialmente il gruppo è quello non cambia assolutamente niente perché non fate danno al boss quindi il boss del raid non si fa assolutamente niente e se ne frega della vostra presenza e in più gli attacchi che tira spesso sono ad aria essendo ad aria neanche potete dire schermo gli alleati dagli attacchi perché semplicemente prende un po' tutto il team e voi non potete neanche difendere bene i vostri compagni quindi a questo punto di vista nel raid dove egil fa proprio una figura barbina nel senso che non riesce proprio a far valere la sua presenza non penso che sia proprio una grande scelta da usare nel raid e generalmente non penso che come tank possa gestire bene un boss intero di un raid è più da gestione della folla più da gestire con i minion con i mob normali quelli che trovate nella nella cop oppure ogni tanto magari qualche mob che può spuntare dentro al raid ma per gestire un boss intero non fa granché e soprattutto dove può aiutare gli altri quindi nel fare un po' di danni si trova ovviamente sul classato perché non ce la fa a farli che dire ragazzi quindi questo è quanto per il quinto video con i nostri ragazzoni quindi Klein ed Egil abbiamo finito ci vediamo alla prossima e da Dark Knight è tutto ciao a tutti